Ciao, sono Sara Bonvicini, educatore cinofilo della Matley School e oggi voglio parlarti di una cosa un po' particolare. Ho sempre considerato i guinzagli che finiscono con delle molle come degli oggetti inutili, anzi, peggio, perché falsano la tua percezione della lunghezza del guinzaglio, rendendo la cosa, per certi cani, anche un po' pericolosa. Quindi, se vuoi dar retta a me, non comprarli. Poi, qualche giorno fa, mi sono ritrovata per le mani questo. Si chiama Wow, è un oggetto fatto da un'azienda italiana e, niente, me l'hanno mandato per recensirlo. A prima vista ti confesso che mi sembrava una molla come tutte le altre e, onestamente, non gli davo due lire. Però, visto che non mi piace giudicare prima di aver provato, ho deciso di accettare la sfida e cominciare a provarlo. Prima di tutto, guardiamo come funziona. Allora, questa è la parte che va agganciata al guinzaglio, questa è la parte che va agganciata invece al collare o alla pettorina, a seconda di quello che usa il tuo cane. Bene, come potrai immaginare, le mie prime chiavi sono stati i miei cani. Il primo con cui ho sperimentato il Wow è stato Simba. Simba che aveva nove mesi, cucciolone, già di taglia grande e l'ho usato legandolo al collare, perché lui preferisce così. Sono andata in giro un paio di volte con questo strumento attaccato e, devo dirti la verità, non l'ho ben capito. Seconda prova è stata la Penny. Penny femmina di taglia media, lei va in giro in pettorina e quindi ho usato questo attaccato alla pettorina, tutt'altra storia. In questo caso fa davvero il suo mestiere. Considera che Penny non è una tiratrice, lei ha dei momenti in cui vede qualcosa, prende parte. Ed è qua che Wow fa il suo lavoro, che in realtà è quello di ammortizzare i contraccolpi che puoi ricevere da quelle situazioni. E mi sono trovata molto bene. Quindi ho provato sempre questo prodotto, ma di un'altra taglia, ovviamente su Mela. Mela è un'altra femmina di taglia medio piccola. Il suo punto debole è il cancello. Quando esce con gli altri cani dalla porta di casa, entra in competizione e tira per quanto ne ha. Wow, con lei, oltre ad aver ammortizzato il tiro, penso che le abbia dato una sorta di maggiore serenità, anche emotiva, e mi è sembrato che tirasse proprio un pochino meno. Poi è stato il tempo di Aki e Leo. Anche per Aki ho sentito una leggera riduzione nella forza del tiro, quindi in realtà il lavoro dell'ammortizzatore, mentre su Leo nulla da richiarare. Bene, ora era tempo di sfruttare altre persone per provare a mettere in crisi questo piccolo aggiuggino qua. Non ti sto a fare i singoli resoconti, ma la somma delle opinioni è stata fondamentalmente che se il cane è un tiro costante, wow, fa abbastanza poco. Ma se il cane ha un tiro a scatto, allora crea gran beneficio a livello scheletrico sia per il cane che per il conduttore. Siamo poi passati alle prove sportive. Per farlo ho approfittato di un amico molto più in forma di me e del suo adrenalinico cane. Loro l'hanno provato in città, in campagna, di corsa, in bici, a piedi, in camminata, insomma in qualsiasi situazione. Il risultato è stato che guarda neanche il tempo di andare a riprendermi il tester che lui ne aveva già comprato uno per sé, perché a suo dire è a livello sportivo il miglior ammortizzatore attualmente in commercio. E in effetti mi ha fatto curiosità, ho provato a mia volta e devo dargli ragione. Tirando le conclusioni, wow è un ottimo prodotto che non semplifica la passeggiata in sé, ma sicuramente ammortizzando, quindi riducendo l'impatto fisico dei contraccolpi allo scheletro sia del conduttore che del cane, fa sì che rende la passeggiata in realtà molto più semplice, molto più piacevole. È uno strumento che consiglio a chi ha cura del proprio cane. D'altra parte noi non ci pensiamo mai, ma ogni volta che prendiamo noi stessi uno strappone, cioè quello che prende il cane dall'altra parte è un contraccolpo molto più forte. E più il cane è piccolo, più questo contraccolpo è forte. In effetti, parlando con Stefano, il titolare dell'azienda, mi raccontava che l'idea di questo affare qui è venuta proprio per aiutare e tutelare i suoi cani che sono di taglia piccola. E adesso che l'ho provato e ho capito come funziona, mi rendo conto del perché. Un'altra cosa che mi piace la forma. Il fatto che non sia un guinzaglio totale, ma sia una parte ammovibile che tu puoi prendere e spostare da un mezzo a quell'altro, lo rende estremamente versatile. In più, se aggiungi questo, i benefici che vi ho detto prima, il fatto che lo puoi mettere ovunque e al fatto che in realtà ha un prezzo molto equo, beh allora la domanda lo consiglieresti? Sì certo, lo comprerei, lo consiglierei senza problemi. Non comprare, wow, perché ti semplifica la passeggiata? Compralo perché ami il tuo cane e onestamente per 20 euro secondo me ne vale assolutamente la pena. Ah, giustamente, mi chiederai dove lo trovi? Sul loro sito, sul loro sito puoi trovare tutto quanto. Nel frattempo io e Francesco, l'amico super atletico di prima, abbiamo intuito un altro utilizzo di questo strumento, ma ci stiamo ancora lavorando su e lo stiamo testando, lì magari ti farò sapere qualcosa più avanti. Nel frattempo spero di esserti stata utile con questa recensione e ci vediamo alla prossima, un nuovo video, un nuovo articolo sul nostro sito della Marley School. Ciao!